Siamo al negozio Parati di Corso Italia, siamo qua con Cristina Lucchini, direttore di Glamour, con Natascia Stefanenko, famosa attrice e conduttrice, e con Sara Parati. Una domanda, Glamour scende tra la gente, scende tra i lettori? Sì, questa è una delle caratteristiche del giornale, essere più vicino possibile alle sue lettrici o letture, abbiamo anche qualche ometto, essere disponibile, accessibile, ma soprattutto essere complice delle sue lettrici. Natascia, tu da poco hai aperto anche un blog dal 2014 e dai consigli anche tu di moda, di stile? Certo, molto volentieri do i consigli, il blog si chiama Natascia's Way, ma qui siamo veramente con Glamour, Glamour abbraccia tutti, racconta anche le meraviglie di queste città come Arezzo, che ha tantissime qualità, e quindi siamo qui con un pizzico di moda, ma siamo anche a scoprire le cose belle. Nonostante la giornata di pioggia di oggi? Ma pioggia porta fortuna e poi noi siamo molto solari dentro. Sara, invece da poco hai vinto il premio di ConfCommerce, quindi quali sono gli sviluppi futuri del gruppo Parati? Gli sviluppi ce ne saranno tanti, abbiamo tanti obiettivi ancora da raggiungere, per cui ci sono tante idee che prenderanno forma nei prossimi anni. Allora, buon shopping! Certo, grazie! Sfridiamo il maltempo, portiamo il sole con l'energia! Grazie!